di franz kafka il processo voce di lorenzo pieri capitolo terzo parte terza all'ingresso per poco non cadde perché dietro la porta c'era un altro gradino non c'è molto riguardo per il pubblico disse non c'è nessun riguardo disse l'usciere guardi un po la sala d'attesa era un lungo corridoio dal quale delle porte di legno grezzo portavano ai singoli reparti del solaio benché non vi fosse nessuna fonte di luce diretta non era completamente al buio già che alcuni reparti erano separati dal corridoio anziché da tramezzi di assi uniformi da grate di legno che pur arrivando fino al soffitto lasciavano filtrare un po di luce come pure lasciavano intravedere alcuni funzionari seduti ai loro tavoli a scrivere o in piedi dietro la grata ad osservare la gente nel corridoio probabilmente perché era domenica nel corridoio c'erano poche persone facevano un'impressione molto modesta erano sedute a distanza quasi irregolare l'una dall'altra su due file di lunghe panche di legno sistemate sui due lati del corridoio erano vestite tutte in modo trasandato benché la maggioranza a giudicare dall'espressione del volto dal contegno dalla foggia della barba e da molti piccoli dettagli quasi indefinibili appartenesse ai ceti superiori poiché non verrano attaccapanni avevano riposto i loro cappelli sotto la panca probabilmente seguendo l'uno l'esempio dell'altro quando quelli più vicini alla porta videro cappa e l'usciere giudiziario si alzarono in piedi per salutare quelli seduti più avanti che li avevano osservati pensarono di dover salutare a loro volta cosicché al passaggio dei due si alzarono in piedi tutti ma nemmeno uno assunse una posizione retta le schiene erano curve le ginocchia piegate stavano lì come mendicanti sulla strada cappa aspettò l'usciere che camminava un po dietro a lui e disse devono essere proprio mortificati sì disse l'usciere sono imputati tutti quelli che vede qui sono imputati davvero allora sono miei colleghi e si rivolse al più vicino un uomo alto snello con i capelli quasi grigi che cosa sta aspettando chiese cappa in tono cortese ma l'inattesa allocuzione confuse l'uomo producendo un effetto ancora più penoso in quanto si trattava evidentemente di un uomo di mondo il quale altrove sapeva senza dubbio dominarsi e non avrebbe rinunciato così presto alla superiorità conquistata su tanti altri qui invece era incapace di rispondere ad una domanda semplicissima e guardò gli altri come se fosse loro dovere aiutarlo e come se nessuno potesse esigere da lui una risposta in mancanza di quell'aiuto allora l'usciere si avvicinò e per tranquillizzare rincuorare l'uomo gli disse il signore qui chiede soltanto che cosa sta aspettando su via gli risponda la voce dell'usciere che forse gli era nota fu più efficace aspetto cominciò e poi si bloccò doveva aver scelto questo esordio per rispondere alla domanda con precisione ma ora non trovava il seguito alcune delle persone in attesa si erano avvicinate e si erano disposte intorno al gruppo l'usciere disse loro via via liberate il corridoio indietreggiarono un poco ma non tornarono ai loro posti nel frattempo l'interrogato si era ripreso e ora rispose addirittura sorridendo un mese fa ho chiesto l'ammissione di alcune prove per la mia causa e sto aspettando che la cosa proceda a quanto pare lei si dà molto da fare disse k si disse l'uomo è nel mio interesse non tutti la pensano come lei disse k anche io per esempio sono imputato ma per quanto tenga la mia anima non ho né chiesto l'ammissione di prove né preso altre iniziative del genere lei ritiene che sia necessario non so bene disse l'uomo di nuovo totalmente insicuro certo pensava che k scherzasse perciò avrebbe probabilmente voluto ripetere da capo la sua prima risposta per paura di fare qualche nuovo errore ma sotto lo sguardo impaziente di k si limitò a dire per quanto mi riguarda ho richiesto l'ammissione di prove a quanto pare lei non crede che io sia un imputato disse k ma come no certo disse l'uomo scostandosi un poco però nella sua risposta non c'era certezza ma solo paura lei dunque non mi crede chiese k e spinto dall'atteggiamento remissivo dell'uomo involontariamente gli afferrò il braccio come se volesse costringerlo a credergli in ogni caso non intendeva fargli del male del resto l'aveva appena toccato e tuttavia l'uomo gridò come se k l'avesse afferrato con una tenaglia rovente invece che con due dita dopo questo ridicolo grido k ne ebbe abbastanza se non credeva che fosse un imputato tanto meglio forse l'aveva addirittura scambiato per un giudice e nell'accomiatarsi lo afferrò davvero con una certa forza lo risospinse sulla panca e si allontanò la maggior parte degli imputati è così sensibile disse l'usciere giudiziario dietro di loro quasi tutte le persone in attesa si stavano assembrando attorno all'uomo che aveva già smesso di gridare e sembravano interrogarlo sui particolari dell'accaduto dall'altra parte stava venendo incontro a k una guardia riconoscibile principalmente dalla sciabola il cui fodero a giudicare dal colore doveva essere di alluminio k se ne meravigliò e allungò perfino la mano per toccarlo la guardia corsa in seguito al grido chiese che cosa fosse successo l'usciere cercò di tranquillizzarla dicendole qualcosa ma la guardia dichiarò di dover verificare di persona salutò e proseguì con passi frettolosi ma assai corti probabilmente impacciato dalla gotta k aveva cessato di curarsi sia della guardia che del gruppo radunatosi nel corridoio soprattutto perché circa a metà del corridoio aveva scorto la possibilità di girare a destra attraverso un passaggio senza porta fece un gesto all'usciere per sapere se era la strada giusta l'usciere annui e k la seguì gli seccava dover sempre precedere l'usciere giudiziario di uno o due passi in quel luogo potevano pensare che venisse condotto come in uno stato d'arresto perciò si fermò più volte ad aspettare l'usciere ma questi poi restava subito indietro un'altra volta infine deciso a porre fine al suo disagio k disse adesso ho visto com'è qui e voglio andarmene non ha ancora visto tutto disse l'usciere in tono innocente non voglio vedere tutto disse k che per inciso si sentiva davvero stanco voglio andare via da che parte è l'uscita si è già perso chiese l'usciere sorpreso basta andare fino all'angolo girare a destra e poi proseguire diritto lungo il corridoio fino alla porta mi accompagni disse k mi faccia strada da solo non la troverei ci sono tanti percorsi qui c'è un solo percorso disse l'usciere ora con tono di rimprovero non posso ritornare indietro con lei devo fare rapporto e ho già perso molto tempo a causa sua mi accompagni ripete k in modo più brusco come se finalmente avesse sorpreso l'uomo a mentire non gridi così bisbigliò l'usciere qui ci sono uffici dappertutto se non vuole tornare indietro da solo faccia ancora un pezzetto di strada con me oppure aspetti qui finché non ho fatto la mia comunicazione dopodiché verrò volentieri con lei no no disse k non aspetterò e lei deve venire con me adesso k non si era ancora guardato attorno nel vano in cui si trovava vi diede un'occhiata solo quando si aprì una delle tante porte di legno tutti intorno entrò una ragazza la quale presumibilmente richiamata dall'elevato tono di voce di k gli chiese che cosa desidera il signore nella penombra alle sue spalle si intravedeva in lontananza anche un uomo che stava avvicinandosi k guardò l'usciere costui aveva detto che nessuno si sarebbe curato di k e ora stavano già arrivando in due ormai bastava poco perché tutti gli impiegati lo notassero e gli chiedessero ragione della sua presenza l'unica ragione comprensibile accettabile era che lui in quanto imputato voleva sapere la data del prossimo interrogatorio ma questa era proprio la spiegazione che k non voleva dare oltretutto perché non era veritiera lui era venuto lì solo per curiosità ovvero ma questa spiegazione era ancora più insostenibile per il desiderio di constatare che visto dall'interno quel sistema giudiziario era altrettanto ripugnante che visto da fuori la sua ipotesi sembrava proprio confermata k non voleva addentrarsi di più era già abbastanza angustiato da quanto aveva visto fino a quel momento non era certo nella disposizione giusta per affrontare un alto funzionario che poteva sbucare da una qualsiasi di quelle porte voleva andarsene via con l'usciere oppure se necessario anche da solo ma quel suo starsene lì muto e immobile doveva dare nell'occhio e in effetti la ragazza e l'usciere lo stavano guardando come se nel giro di un minuto dovesse subire una trasformazione che non volevano perdersi e sulla porta c'era l'uomo che k aveva scorto in lontananza si teneva all'architrave della porta piuttosto bassa e si dondolava lievemente sulle punte dei piedi come uno spettatore impaziente fu la ragazza a comprendere per prima che il comportamento di k era dovuto ad un lieve malessere portò una seggiola e chiese non vuole sedersi k si sedette senza esitare e per sostenersi ancora meglio poggiò i gomiti sui braccioli le gira un po la testa vero gli chiese ancora la ragazza il suo volto ora vicinissimo a quello di k aveva quell'espressione severa tipica di certe donne proprio negli anni migliori della loro giovinezza non si preoccupi disse non è nulla di insolito qui quasi tutti sono colti da un simile malore quando vengono per la prima volta per lei è la prima volta e allora non c'è nulla di strano qui il sole picchia sull'impalcatura del tetto ed è il legno cocente a rendere l'aria così stantia e pesante questo posto dunque non è molto adatto a ospitare uffici anche se peraltro offre grandi vantaggi l'aria tuttavia nei giorni di grande affluenza delle parti cioè praticamente tutti i giorni è appena respirabile se poi considera che qui vengono pure stesi ad asciugare i panni non si può vietarlo del tutto ai condomini non si meraviglierà più di essersi sentito poco bene alla fine comunque ci si abitua perfettamente a quest'aria quando verrà qui per la seconda o la terza volta non proverà più questo senso di soffocamento si sente già meglio k non rispose gli dava molto fastidio essere alla merced di quella gente a causa della sua improvvisa debolezza per di più adesso che conosceva le cause del suo malore si sentiva peggio anziché meglio la ragazza se ne accorse subito e per offrire un po di refrigerio a k prese un'asta uncinata appoggiata alla parete e con quella aprì una piccola botola che si trovava giusto sopra la testa di k e portava all'aperto ma da lì cadde giù così tanta fuligine che la ragazza dovette richiudere subito la botola e togliere la fuligine dalle mani di k con il suo fazzoletto giacché k era troppo spossato per farlo da sé grazie a tutti